Ciao, Unicam sta con te ma tu stai a casa e come al solito stai a casa col museo e siccome la nostra casa è questa, è il mondo, allora parliamo di qualcuno che viene dall'altra parte del mondo e cioè lui, questo è come qualcuno sicuramente lo riconoscerà un fossile vivente, un Nautilus, è un mollusco che vive dentro una conchiglia che è molto molto bella, occupa questa che è la camera principale della conchiglia ma la particolarità di quest'animale è appunto un fossile vivente perché assomiglia molto a quei fossili che troviamo anche sulle nostre montagne, le ammoniti che hanno la stessa forma e soprattutto anche una struttura interna molto molto simile, ve la facciamo vedere in questa sezione dove si vede benissimo la camera che è occupata dall'animale mentre in vita, l'animale è una specie di seppia, è simile molto a una seppia e queste invece sono le altre camere che sono separate da setti, c'è un piccolo, vedete, intaglio nella parete del setto dove passa un sifone, a cosa serve questa conchiglia fatta in questa maniera? Serve all'animale per andare a caccia o sfuggire ai predatori scendendo e salendo nella colonna d'acqua dell'oceano. In pratica cosa succede? Quando ha bisogno di scendere, immette acqua all'interno di queste camere, la conchiglia si appesantisce e scende verso il basso. Quando invece ha bisogno di risalire, all'interno delle camere viene immessa dell'aria, esce l'acqua, la conchiglia si alleggerisce e risale. Questo è il motivo, probabilmente, per il quale il Nautilus è sopravvissuto alla grande estinzione di 66 milioni di anni fa circa, quando sono scomparsi sulla terra tantissimi animali, compresi i famosi dinosauri. Molto meglio delle ammoniti, le loro cugine, sono riusciti questi animali a cercarsi le prede in profondità, quindi a scendere agevolmente in profondità e a risalire in profondità. Questo gli ha permesso di non perire nella grande estinzione della fine del Cretaceo. Oggi noi abbiamo i Nautilus ancora nei nostri oceani che viaggiano tranquillamente. Immaginatevi un animale simile a una seppia che fa uscire tentacoli e occhi da questa parte e che spara fuori l'acqua con il suo sifone in modo da procedere nella colonna d'acqua. Quindi questo è uno solo dei tanti esempi di animali che la casa se la portano dietro. Ciao! Grazie a tutti!